Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. La Liguria è interessata da una debole circolazione depressionaria. Domani martedì e dopodomani mercoledì invece il tempo sarà influenzato da due veloci impulsi perturbati da nord-ovest. Il dettaglio, oggi lunedì 6 giugno, nubi basse, marittimo costiere sul centro ponente, in temporaneo dissolvimento nelle ore pomeridiane, nuvolosità più regolare e levante, venti deboli inizialmente da sud-est in rotazione da nord-est in serata, mare in aumento fino a generalmente mosso, da sud-ovest temperature massime stazionari e lungo la costa tra 25 e 27 gradi, nelle zone interne tra 23 e 26 gradi. Domani martedì 7 giugno temporaneo aumento dell'instabilità, nelle ore centrali possibili isolati rovesci o temporali al più moderati, più probabili sul centro levante, ampie schiarite in serata, venti al mattino deboli variabili, localmente in regime di brezza, rotazione da nord-nord-est in serata, mare generalmente mosso, temperature minime in aumento, lungo la costa tra 19 e 22 gradi, nelle zone interne tra 16 e 18 gradi, massime in diminuzione, lungo la costa tra 24 e 26 gradi, nelle zone interne tra 20 e 23 gradi. Dopodomani, mercoledì 8 giugno, al mattino cielo generalmente sereno, poco nuvoloso, dal pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità su gran parte della regione, con possibili isolati rovesci sparsi, venti deboli variabili, localmente in regime di brezza, rinforzi da nord al mattino, mare in temporaneo calo fino a poco mosso sul centro ponente, poi nuovamente mosso, temperature minime in diminuzione, lungo la costa tra 18 e 23 gradi, nelle zone interne tra 11 e 17 gradi, massime in ripresa, lungo la costa le temperature massime saranno intorno 25 e 26 gradi, nelle zone interne intorno 22 e 23 gradi. È tutto, se avete ragionamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal, sul profilo Instagram dell'agenzia, ricordate di scaricare l'app Meteo 3R, disponibile su Google Play e Apple Store, risentirci!